Porto il vado anche qui, questo ragazzo giovane qui, insomma ce ne sono tanti. Ancora una razzie nel cimitero della provincia di Arezzo, questa volta i malviventi si sono introdotti all'interno del Campo Santo di Frassineto. Non è la prima volta che dei ladri si introducono qua dentro nel cimitero alle mie spalle, una vera e propria razzia soprattutto all'ingresso del cimitero. Tutto qua su hanno fatto perché... ma nell'ora di pranzo poi. Una delle lapidi è stata totalmente divelta, molto talmente per portare via la grossa statua che le sta sopra. La vede quella con i corsi lì? Eh ok, hanno portato via ogni cosa. Hanno portato via ogni cosa. Io dico che ritornano comunque, secondo me, perché lascio tanta roba. Sono circa una trentina le lapidi profanati. I malviventi sono introdotti in pieno giorno all'interno di questo cimitero. Infatti sarebbero entrati all'ora di pranzo indisturbati per fare razzia di rame ed altro materiale.